sono le ore 16 e 30 all'uscita da scuola via le fassini di maria scirese i bambini dovrebbero uscire da scuola guardiamo che fine fa questa gente è dovuta salire sopra al rialzo della pista ciclabile fino alla pista ciclabile gente in attesa lamenta il non poter riprendere i bambini guardate dove termina finisla sincana da come un fiume qui stiamo in miglia le fassini alla terza della fenice guardate al civico il negozio da fenice preziosi guardate l'acqua con un torrente al civico 60 eccola qui sincana la verso questa via in discesa passo schicchi curati avvicinando mi una via che avevano cercato di proteggere con questo rialzo una via che avevano cercato di proteggere con questo rialzo ma quanto potete notare funziona ben poco e tutta quest'acqua va a finire a convogliarsi in questa via che fa angolo con il civico 80 e va a finire nei garage e nelle cantine degli abitanti di questi palazzi di queste case